Mister, una grande partita, una partita di carattere, una Giulianova che porta a casa tre punti importanti nonostante qualche giocatore non al meglio della condizione. Ma allora, sul fatto del carattere non sono d'accordo perché non credo che si possa fare questo sport senza il carattere, la voglia, la passione che giustamente oggi ci hanno messo loro. Per il resto non credo che oggi il Giulianova abbia fatto solo quello perché secondo me ha provato a giocare a calcio, è normale che quando è uscito Tozzi-Vorsoi dopo è cambiato un po' tutto. Non abbiamo cambiato modulo però le uscite erano diverse quindi non ci difendevamo più a tre se no a cinque dopo qualche minuto. Quindi comunque sono soddisfatto perché loro lavorano bene, dobbiamo lavorare sulla loro testa perché fuori casa non possiamo più fare le prestazioni come quelle che abbiamo fatto a Iesi. Mister, sullo 0-0 prima del rigore concesso ce ne erano probabilmente due nell'arco di un minuto. Secondo me erano tutti i rigori che non ho dato, per me erano tutti. Ora dopo l'arbitro, non parlo mai dell'arbitro nel bene e nel male, non lo farò mai. Tu mi hai chiesto un parere, per me erano tutti i tre rigori, anche se io ero lontano, un po' presuntuoso a parlare così. Mister, c'è stata una situazione con Fazzini durante il cambio? No, non ti ho sentito, scusa. Dicevo, quando c'è stata la sostituzione di Fazzini, lei ha avuto qualcosa da ridire al suo giocatore? No, allora, quando è uscito Fazzini ha avuto un atteggiamento nervoso perché magari lui pensava che il cambio era stata una vociatura, invece la realtà è che Fazzini non si allena da un sacco di tempo. Oggi lo abbiamo portato in panchina giusto per, invece abbiamo avuto bisogno di lui, l'ho dovuto buttare subito in campo. L'importante è dare continuità anche fuori casa, i numeri parlano chiari, io da quando sono qua in casa c'è una marcia, fuori casa c'è un'altra. Quindi bisogna che lavoriamo sulla testa, Giulianova deve giocare da Giulianova sia in casa che a Iessica, a Sant'Arcangelo, non deve cambiare niente. Qua si spinge fino all'ontesimo, nelle altre due partite abbiamo smesso di farlo quando mancava ancora 30-35 minuti di partita. Penso che il problema più grande nostro sia quello. Ora però loro devono capire che noi andiamo ad Isernia e andiamo a Isernia a vincere la partita. Con questa intensità, con questo carattere qua. Aspettavamo che giocavano questa palla su Tozzi Borsoi e andavano a fare la guerra sulle seconde palle. Loro sono messi a 5-3-2 per fruttare questa, avevano quell'opzione lì che era buttare questa palla. Al primo tempo noi su questo è un gioco che facciamo fatica a fare, per fisicità di squadra andiamo in grossa difficoltà. Noi dobbiamo giocare palla a terra e lavorare nello spazio, spazio non ce n'era, palla a terra non ci stava mai perché il campo di sicuro non ti aiuta a giocare a calcio e quindi siamo andati il primo tempo in difficoltà. Secondo tempo loro quell'uscita non ce l'avevano e secondo tempo sicuramente abbiamo fatto meglio noi però loro hanno trovato i due gol quindi bravi loro e si meritano di aver vinto. Comunque tornando un po' alla partita di oggi, Giulianova non vi ha concesso tiri se non nella parte finale, proprio nella fase di recupero. Sì sì, ripeto, loro hanno avuto tantissima intensità, non hanno il campo, obiettivamente è impossibile giocare a calcio perché è messo abbastanza male, era secco, la palla rimbalza male, ci hanno costretto a buttare sta palla lunga e loro sono messi dietro a cinque e diventava impossibile, proprio per caratteristiche dei nostri giocatori. Se non riusciamo a mettere la palla in terra e giocare nello spazio facciamo fatica. Giulianova invece, specie nel primo tempo, faceva il suo gioco perché si appoggiava su Tozzi Borsoi e andava a lavorare sulle seconde palle. Poi non abbiamo creato niente noi, non hanno creato niente loro, però loro hanno trovato i due gol e quindi hanno vinto.